La Cappella Sistina definitivamente aveva 66 anni, era diventato un mito, era osannato da tutti, ma era anche, come ha sottolineato il professor Zeri, molto stanco, profondamente solo. Ecco, noi vorremmo concludere questo programma con le stesse parole di Michelangelo. Abbiamo scelto una frase tratta da una lettera che ha scritto ad un amico, Nicolò Martelli. Io sono un povero uomo e di poco valore, dice Michelangelo, che mi vuo affaticando in quell'arte che Dio mi ha data per allungare la vita mia il più che io posso. Professore, è arrivata ora di andar via. È arrivata ora, peccato, perché ci starei molto a lungo. Prego, mi pericendo. Non lo metto in dubbio. Questo senso di angoscia che Dio mi diceva, effettivamente, mi pare che abbiamo...